Musica Musica Bene, vedo che arrivano gli ultimi, gli facciamo entrare, mi hanno detto che ci sono giusto una decina di posti ancora per la capienza della sala, anche se ahimè la sala sembra vuotissima. Salutiamo anche quelli che ci stanno vedendo in diretta dai canali social del CICAP Fest. Una precisazione giustamente, quando abbiamo discusso l'organizzazione di questo evento abbiamo discusso anche un pochino sul titolo. Il titolo e il tema ci è stato proposto da uno dei membri del comitato scientifico, che è professore di letteratura anglo-americana all'Università di Cafoscari, che ci ha detto però se parliamo di incertezza perché non parliamo di come le religioni vivono l'incertezza. Nel senso che c'è questa idea che il fenomeno religioso sia un portatore di certezza, ma questo diceva il nostro collega mentre nella discussione, però questa è una visione molto centrata sull'esperienza che viviamo nelle nostre società, non è sempre così. Questo mi ha fatto pensare che era anche l'occasione per portare al CICAP dei ricercatori che studiano i fenomeni religiosi in modo scientifico, che vedrete che tipo di ricerche fanno. All'inizio abbiamo chiamato l'incontro noi nella nostra ignoranza, l'abbiamo chiamato incertezze, adesso non ricordo più, incertezze sacrosante. In realtà giustamente loro hanno voluto cambiare il titolo di questo incontro in cosmologia dell'incertezza, cioè com'è che il mondo affronta l'incertezza attraverso le credenze. Vi presento i nostri ospiti, comincio da Francesca Tarocco che è in mezzo, che è professoressa associata di storia della religione cinese e studi buddhisti a Ca' Foscari, quindi all'Università di Venezia, è visiting professor of Buddhist cultures alla New York University a Shanghai. I suoi interessi vertono sulla storia intellettuale e culturale, la religione urbana, la cultura visiva e materiale, i media e la religione, e i testi buddhisti apocrifi. È autrice di The Cultural Practice of Modern Chinese Buddhism e di Buddhism and Technology in Modern China. Quindi, in che modo il buddismo influenza la cultura anche moderna? Roberta Mazza, senior lecturer, che è l'equivalente del titolo di professore associata in Greco-Roman Material Culture e Papirologia all'Università di Manchester, i suoi interessi riguardano la storia dell'Egitto romano e bizantino, i papiri cristiani e tardo-antichi. Recentemente si è occupata anche di traffici internazionali di manoscritti antichi, il suo prossimo volume, The Secret Life of Manuscripts, è in uscita per Stanford University Press. E infine, last but not least, Edoardo Siani, ricercatore in lingue e culture dell'Asia sudorientale del Dipartimento di Studi sull'Asia e Africa Mediterranea dell'Università Ca' Foscari di Venezia, è di formazione un antropologo culturale, è specializzato in buddismo in Thailandia, che è il paese dove ha vissuto e insegnato anche per una ventina d'anni. Ognuno di loro vi presenterà il suo ambito di interessi per una decina di minuti, avremo poi tempo alla fine di fare loro tutte le domande che ci vengono in mente, sia sull'approccio metodologico che sulle tematiche che loro ci racconteranno. Prego, comincia Roberta Mazza. Buon pomeriggio, come è stato appena ricordato, insegno all'Università di Manchester e il mio ambito di ricerca è la cultura materiale, in particolare la cultura materiale dell'Egitto greco-romano, che è tra le più ricche di oggetti che si possono così studiare per capire la vita degli antichi e tra queste esperienze che gli antichi facevano certamente l'incertezza regnava sovrana. Come al solito la tecnologia... Più o meno io mi occupo del bacino del Mediterraneo antico per un periodo che va dal IV secolo a.C. al VI secolo d.C., quindi è un periodo molto lungo e la mia area di ricerca certamente è l'Egitto, ma in realtà il mio ambito è più ampio. Questo è un mondo che ovviamente era centrato sul Mediterraneo antico, ma era parecchio spostato anche verso Oriente, cioè Oriente per noi, che è quell'area di ricerca di cui si occuperanno i miei due colleghi successivamente. Quello che vi voglio proporre è un ragionamento intorno al tema dell'incertezza, in particolare l'incertezza che noi tutti stiamo vivendo oggigiorno, che è l'incertezza della salute, la malattia e come gli individui e le società le hanno affrontate nel corso dei secoli. Vorrei cominciare con un testo che vedete illustrato anche in una di queste magnifiche pitture delle catacombe di Roma, questa è quella di Pietro e Marcellino. È un famosissimo testo tratto dal Vangelo di Marco che parla di una guarigione miracolosa che Gesù, che certamente per i credenti è il figlio di Dio, ma che per uno storico delle religioni è semplicemente un guaritore e un operatore del miracoloso come ce n'erano molti altri al suo tempo, riesce a curare questa donna che aveva un flusso continuo, che non si fermava, alla faccia di tutti quegli scienziati, i medici di allora, che certamente praticavano una medicina molto diversa e meno scientifica della nostra, che non solo non l'avevano guarita, ma ne avevano anche sottratto un sacco di soldoni. Ovviamente qua, ecco. Allora, questo testo tratto dal Vangelo di Marco crea una separazione netta tra Gesù, l'operatore del sacro, il guaritore tramite l'intervento divino e i medici. In realtà la società alla quale stiamo guardando era molto meno netta in questa sua separazione. Quello che vedete su questa diapositiva è una gemma magica, cioè uno dei tanti metodi pratici che questi guaritori antichi utilizzavano. Perché è interessante? Perché quello che vedete schematizzato qui è un utero femminile. E la cosa più interessante sono queste specie di serpentelli che in realtà sono i legamenti che trattengono l'utero all'interno del corpo femminile che erano stati appena scoperti, insomma, nella loro esistenza da galeno. Quindi cosa significa tutto ciò? Che l'operatore che utilizzava questa gemma conosceva i testi di galena e conosceva quell'expertise della medicina che noi attribuiamo alla scienza. Però utilizzava una serie di metodologie complesse. Quelle letterine che forse intravedete sulla pietra sono delle vocali dell'alfabeto greco che venivano cantate in questo modo più o meno durante una pratica medico-magica che appunto era una commistione di scienza, religione e saperi di tipo diverso. Ovviamente altri oggetti che ancora oggi tra l'altro vengono usati dai cristiani voi avete qui la basilica di Sant'Antonio da Padova e ne avete parecchi così sotto gli occhi sono questi ex voto quelli che vedete a sinistra sono dell'età appunto greco-romana e sono disseminati ovunque nei nostri musei perché sono stati trovati ovunque dalla Magna Grecia all'Etruria per ogni dove e come vedete sono così concentrati su questo momento di grandissima incertezza che era la gestazione e il parto la capacità o l'incapacità di essere fertili che insomma e tutte le malattie che circolavano intorno appunto all'apparato riproduttivo maschile e femminile. Quella che vedete nella seconda metà della diapositiva è ovviamente un oggetto moderno che io stessa che sono stata così in questa incertezza di gravi malattie qualche anno fa mi sono comprata a ricordo appunto di questo scampato pericolo io stessa ovviamente sono andata in ospedale e mi sono fatta operare però c'è stata una parte di me che ha sperimentato la malattia in un modo diverso c'erano anche amuleti di altro genere questi sono quelli di cui mi occupo io piccoli fogliettini con preghiere, formulari che venivano chiusi e appesi al collo in varia maniera qui ne vedete uno ancora da aprire e qui ne avete invece un altro sempre di epoca cristiana aperto è un po' come quei giochini che si facevano da bambini quei ritagli poi questi oggetti venevano chiusi e portati appunto al collo questo è un altro esempio interessante perché è un altro brano del Vangelo ma questa pratica in realtà in Egitto è attestata dal periodo faraonico fino all'epoca contemporanea qui avete appunto uno di questi bellissimi ritratti del Fayum in cui vedete che questo povero bambino che una volta ancora quanto era incerta la vita di questi bambini antichi portava al collo ma che poi non è servito molto perché come vedete questo è un bambino che è morto abbastanza giovane un altro metodo attraverso il quale gli antichi così cercavano di far fronte alle incertezze della vita erano le metodologie oracolari in particolare quello che avete qui sotto gli occhi è un fantastico libricino che al suo nascere più o meno si presentava così ho fatto fare un mock-up ai miei fantastici conservatori a Manchester in cui si trova la risoluzione il significato dei tremoli involontari del corpo sapete che anche adesso si dice mi trema l'occhio mi balla l'occhio sinistro porta male ecco appunto chi leggeva questo libricino e forniva i suoi servizi aveva una risposta per un tremolio della chiappa destra anche quello dell'ano e moltissime altre parti del corpo di nuovo però ecco ci sembra che questa sia una caratteristica dell'operatore religioso o religioso magico in realtà questa è una pratica che di nuovo mescola un sacco di cose insieme quello che vedete a destra è un piccolo foglietto di papiro in cui potete leggere la seguente affermazione Dio del Santo Colluto se vuoi che io prenda la medicina rispondimi c'era un altro bigliettino esattamente come questo che veniva piegato e i due venivano estratti appunto a sorte cosicché colui che si era recato in questo monastero e santuario riceveva una domanda se fosse il caso di prendere la medicina o no ma chi gliela dava sta medicina? I monaci perché come in realtà sappiamo assieme a questo monastero e sacrario di questo santo medico perché Colluto era un santo medico c'era appunto anche quello che potremmo definire come un centro di guarigione che continuava di nuovo una tradizione che in precedenza era stata appunto pagana vi vorrei lasciare con quattro così pensieri lampo quello di cui vi ho parlato ci parla di quanto centrale sia il corpo e di quante incertezze ci siano intorno al corpo ma anche quanto sia centrale almeno per queste società antiche il corpo anche nella risoluzione di questa incertezza la sovrapposizione dei saperi che è importantissima teniamo presente che questa separazione religione scienza o comunque disciplinare è qualcosa che appartiene a un periodo successivo e poi questa dicotomia tra scienza e religione che viene spacciata nel Vangelo di Marco e che forse è sotto traccia c'è arrivata e c'è quasi un po' esplosa in faccia no? in quanto così civiltà fra virgolette occidentale che è un grande punto di domanda perché se al periodo di appunto Marco alla fine del primo secolo dopo Cristo il religioso la sfera del sacro era quella alla quale ci si affidava ciecamente oggigiorno forse ci si aspetta dalla scienza quella sorta di risposta a tutte le domande che invece ci ricorda che anche come scienziati abbiamo un limite grazie mille avrei mille domande le lascio per la fine scusate solo un secondo prima di passare alla prossima relatrice abbiamo tutte queste belle procedure di sanificazione prego grazie Roberta per questa fantastica spiegazione questa fantastica mini lecture infatti vedrete che qui siamo in un posto completamente diverso ma ci sono tanti temi che ritornano e ricorrono io sono una studiosa di buddismo di buddismo cinese in particolare e ho lavorato per tanti anni qui sono in un tempio della cina sud orientale insieme a due monache che peraltro sono anche degli ingegneri un ingegnere elettronico e un ingegnere civile e che hanno deciso di diventare monache molto interessante mi sono occupata del buddismo per tanti anni soprattutto da un punto di vista in realtà di storia delle idee e anche ultimamente di storia della tecnologia quindi il buddismo non tanto da un punto di vista dottrinale ma quanto più come sostrato storico e culturale scientifico ha di una vasta parte del mondo con queste due con queste due monache infatti durante il lavoro sul campo parlavamo in particolare delle motivazioni che le avessero spinte quindi dopo questo background dopo questo training scientifico appunto a entrare nel monastero quindi prendere i voti condurre un'esistenza di celibato e di ascesi che fanno come vedrete con garbo e simpatia questa è un'altra mappa quindi il pezzo che avete visto prima che vi ha mostrato Roberta la professoressa Mazza è più o meno arriviamo dall'Asia centrale fino dall'Afghanistan dall'Asia centrale questa grande parte dell'Asia è buddista e tuttora ci sono come vedremo anche dal professor Siani i praticanti buddhisti il buddismo è una religione vivente quindi arriviamo allo Sri Lanka al Giappone la Cina tutto il sud-est asiatico e il buddismo quindi è un è una filosofia un'epistemologia un'agnoseologia ma è innanzitutto un messaggio soteriologico e religioso il buddismo si mette in cammino qui abbiamo una una delle varie metafore che si usano nel mondo buddista per indicare il pensiero stesso la ruota la ruota del Dharma quindi dell'insegnamento questa è una delle simbologie che vengono usate molto spesso e uno degli insegnamenti fondamentali che poi hanno dato corpo a a un lavoro religioso materiale intellettuale per secoli è il concetto di Anitya in sanscrito che vuol dire impermanenza quindi è una religione in un certo senso che insegna l'incertezza fin dall'inizio o che comunque continua a riflettere costantemente sull'incertezza e quindi da un lato certamente le due monache dicono trovano una incertezza intellettuale esistenziale ed entrano in questo contesto della comunità buddista dall'altro gran parte della loro pratica religiosa è legata invece alla alla meditazione alla riflessione anche al concretizzarsi della pratica religiosa della riflessione sull'impermanenza qui abbiamo una delle metodologie se volete no? quindi buddismo come soteriologia come messaggio di salvezza universale che cosa fa una religione di lavoro? la religione ti insegna a fare le cose c'è un problema quasi può essere la soluzione questa è una soluzione che il buddismo offre che è quella di fare determinate pratiche che consentano di guadagnare merito religioso questo merito è una sorta di moneta corrente del buddismo è una cosa molto interessante perché da un lato è impalpabile dall'altro è realmente collegato alla possibilità di cambiare se vogliamo il proprio destino di modificare il proprio destino e anche a trasferire questo merito a trasferire questa currency questa moneta chiamiamola buddista sugli altri in un continuo scambio intergenerazionale di aiuto e di ricerca di soluzioni ai problemi fondamentali dell'esistenza quindi la costruzione di immagini il buddismo è una religione di immagini la costruzione di immagini la proliferazione del dharma stesso il continuare a parlare del buddismo e a riprodurre immagini insegnamenti buddhisti è uno dei modi di guadagnare merito religioso e in un certo senso quindi e qui introduciamo un'altra parola fondamentale del vocabolario buddista che probabilmente avete sentito ormai entrata nel linguaggio corrente nelle lingue europee che è la parola karma cercare di agire sul proprio karma questo è un altro modo in cui si può agire nella pratica buddista qui vedete degli altri straordinari leggermente più tardi ma insomma più o meno coevi alcune delle immagini che vi ha fatto vedere alcuni degli oggetti che vi ha fatto vedere della professoressa mazza qui abbiamo dei fascini si dice fascini in italiano non charms sono fascini si dice fascini diciamo delle come dici charms incantazioni incantazioni sono degli incantesimi sono dei testi dei formulari magici e questi sono fra i più antichi testi a stampa della storia umana questo è abbastanza interessante forse non tante persone sanno che il buddismo già ha cominciato a stampare verso il settimo secolo dell'era comune quindi molti secoli prima che alcun testo religioso fosse portato a stampa nell'Europa occidentale quindi la produzione di immagini e la produzione di testi i testi stessi sono anche un modo in un certo senso quindi di guadagnare merito di cambiare di agire sul proprio destino e di quello degli altri in una in questa grande se vogliamo tapizzeria di destini in cui tutti i buddisti si sentono insieme collegati questa è un'altra immagine di un testo dove si vede sia la predicazione del Buddha che vedete sulla destra che predica i discepoli e poi il testo stesso di ciò che viene predicato questo è il Sutra del Lotto e qui arriviamo a uno dei meccanismi interessanti della relazione fra la vita e la morte nella concezione buddista qui vediamo questa sorta di tribunale degli inferi in cui tutti noi veniamo messi di fronte a quelle che sono le azioni malvagie o le azioni virtuose che quindi vanno poi a segnare il passaggio all'altra esistenza e qui ne vedete un'altra molto interessante in cui c'è un vero e proprio specchio quella cosa bianca quella cosa bianca che vedete lì ce n'è un'altra anche più chiara sono delle immagini medievali e tardo medievali questi sono dei veri e propri specchi in cui si vedono riflesse le azioni del passato nel primo caso qui vedete il penitente che è lì in basso puntiamo dove è questo dove devo puntare eccolo qua questo è il penitente che guarda se stesso riflesso nel passato e mentre appunto mentre compie un'azione malvagia sta cercando di ammazzare qualcuno mentre questo diavolaccio vi dice guarda cosa hai combinato e quest'altro invece e questa è anche una cosa molto interessante il pensiero che vi dicevo di questa tapezzeria dei destini che ci collega nelle vite passate nelle vite presenti qui sta invece ammazzando una vacca presumibilmente o una pecora perché ovviamente il concetto di karma è estremamente connesso a quello di rinascita quindi quello che vi esperiamo nella vita presente secondo i buddhisti è il prodotto di un'accumulazione di azioni positive o di azioni negative in un nesso diciamo di moralità e immoralità che è legato a di la stessa di salvezza queste pratiche antiche quindi di produzione di immagini di produzione di testi e di come vedremo anche di relazione con le altre specie quindi tutti gli esseri senzienti come dicono i buddhisti continua tuttora qui siamo nella stamperia di un monastero tutti questi testi che vedete sono stati donati e sono stati pagati quindi le azioni meritorie che rimettono se vogliamo rimettono in bilancia bilanciano quello che uno può aver fatto di brutto nella vita corrente qui siamo quindi in questa stamperia qui c'è un'altra pratica molto interessante che è abbastanza antica ma che viene continuamente riciclata e che è vivissima tuttora come vedete queste persone stanno portando delle gabbiette con degli animali piccoli uccelli pesci tartarughe stanno dirigendosi verso un fiume e per liberarle la metafora è proprio quella della liberazione questa pratica si chiama in cinese liberare le creature liberare le creature che è stata appunto considerata per secoli un'azione meritoria ovviamente nel contesto insomma di complessità ecologica in cui si trova la Cina stessa si sta cercando anche di dire alle persone che magari usino la tecnologia insomma invece di liberarli veramente questi pesci magari li possono liberare online facendo però diciamo che c'è ancora molto entusiasmo per questa pratica per concludere vi faccio vedere un'immagine qui legata all'interno di un tempio questi sono degli inginocchiatoi che vengono usati sia dai monaci che dai laici nei monasteri buddhisti e questi sono i luoghi della pratica quotidiana i luoghi della pratica liturgica in cui in un certo senso si cerca di mediare a livello quotidiano con queste varie realtà proprio legate all'incertezza all'incertezza esistenziale e all'incertezza anche cosmica laddove i monaci e le monache ovvero tutti coloro che conducono un'esistenza moralmente retta in un certo senso acquisiscono anche potremmo dire dei superpoteri acquisiscono dei superpoteri e uno dei superpoteri che si acquisiscono conducendo un'esistenza buddista quindi praticando il buddismo è proprio quello di prevedere la propria morte la propria morte e avere esattamente l'idea di quando questo avverrà e di avere quindi un atteggiamento equanime questa è una delle virtù che insomma certamente i buddhisti cercano di coltivare quella dell'equanimità e di arrivare quindi a questo momento supportati ovviamente anche da tutto un nesso di altre pratiche con gli altri fedeli di arrivare a questo momento con una sorta di gioia e di leggerità grazie grazie mille questo viaggio mi fa pensare poco fa stavamo facendo una moderazione stavo facendo una moderazione di una come la nostra mente gestisce l'incertezza quindi con un approccio neuroscientifico e uno del pubblico ha detto beh l'incertezza in fondo l'incertezza principale che è quella sulla data della propria morte è la cosa che ci mantiene in vita perché nel mito greco c'è una figura che vive malissimo perché chiede in dono di poter conoscere la data della propria morte e il fatto di essere privato di questa incertezza paradossalmente lo fa stare malissimo e questo mi ha fatto pensare quanto culturalmente determinate sono le gestioni delle incertezze e questo poi magari ne parliamo e l'altro punto che mi sembra davvero interessante di tutte e due lo butto lì poi lascio parlare il professor Stiani è come noi pensiamo appunto alla religione come a un sistema di credenze ovviamente non scientifiche di fatto è così ma a volte sono anche motore di sviluppi anche tecnologici appunto la stampa e altre cose che sono connaturate soprattutto nelle religioni del fare dove si da religione i meriti si acquisiscono facendo e magari di questo poi ne parliamo tutti insieme prego sentiamo il nostro terzo oratore eccoci buon pomeriggio a tutti mi chiamo Edoardo Siani e sono un antropologo culturale un antropologo culturale specializzato in buddismo in Thailandia nella Thailandia contemporanea e come fanno spesso gli antropologi oggi vi racconterò in pratica di un incontro cioè del mio incontro con una comunità in Thailandia una comunità che di mestiere si occupa delle incertezze e cioè degli indovini ecco questo spero che riusciate a vederlo questo è un indovino che opera di notte in una città thailandese potrebbe essere Bangkok potrebbe essere qualche altra città quindi cosa succede? succede che a una certa ora quando inizia a fare buio i marciapiedi in queste aree metropolitane Bangkok quindi macinati di sotto i grattacieli piuttosto che in cittadini di campagna si animano di questi individui che arrivano con un tavolino di metallo pieghevole lo aprono e aspettano i loro clienti chi sono i clienti di un indovino? sono uomini e donne di ogni età? persone che hanno studiato persone che fanno dei lavori più umili e che cosa chiedono? chiedono sapete in pratica quello che noi leggiamo nell'oroscopo amore lavoro più raramente salute raramente perché quando uno sta male di solito va all'ospedale anche in Thailandia non va da uno indovino il fenomeno è molto molto importante in Thailandia cioè praticato da tantissime persone ragione per cui a me sembrava un fenomeno interessante da studiare e pensate che è tanto in voga questo fenomeno che anche i politici rappresentanti del mondo politico rappresentanti del mondo culturale sono famosi e noto che anche loro facciano ricorso all'adivinazione per esempio in questa immagine alla vostra sinistra vedete l'attuale premier italandese Prayuth Jan Ocha accompagnato dal suo astrologo di fiducia e si fa ritrarre così dai giornalisti l'astrologo tra l'altro che ha suggerito ad alcuni giornalisti di avere scelto di avere selezionato la data perfetta per il colpo di stato tramite il quale questo premier si è installato al governo nel 2014 ancora oggi al governo e sempre per darvi un'idea di quanto questo fenomeno sia davvero importante in Thailandia pensate che nei primi anni del 2000 una grande banca tailandese Cassie Cohen stillava una statistica relativa alla spesa annuale nazionale indivinazione e nel 2005 la cifra era questa 100 milioni di euro la maggior parte dei quali spese a Bangkok ora 100 milioni di euro non so bene quanto costi qui una sessione con una cartomanto a Bangkok costa 3 euro quindi pensate a quante sessioni quanti indovini quanti clienti si nascondono mi dico questa cifra ecco vi dicevo come un antropologo vi racconterò di un incontro quindi io in quanto antropologo qual è la mia metodologia vado a cercare delle persone che praticano la divinazione e che siano pronti ad accettarmi nel loro mondo quindi a condividere il quotidiano con me e ho trovato questo questo indovino in un mercato di Bangkok un mercato dove ogni sera operano circa 40 indovini e quindi attorno ai quali circolano molti molti più clienti che mi ha dato il permesso di sedermi al suo fianco per circa un anno e mezzo quindi durante questo anno anno e mezzo io ogni sera in pratica stavo al suo fianco mentre lui offriva questi servizi di divinazione ai clienti e dopo ora non mi ricordo mi sembra un paio di mesi che lo conoscevo mi ha detto ti vorrei presentare a un astrologo di un certo tipo un grande nome il mio maestro un astrologo molto famoso che ha letto il futuro a politici esponenti del mondo politico ha detto va bene e allora mi ha portato in questa associazione di astrologi dove questo maestro insegna questo è il maestro che già si presenta molto bene per un astrologo ha queste sopracciglia molto lunghe bianche che secondo la divinazione tailandese sono un segno di saggezza quindi soltanto vederlo wow questo sicuramente è saltato su e l'ho incontrato in quest'aula di questa associazione lui mi ha chiesto la mano non per stringerla ma per vedere il palmo della mano quindi fammi vedere il palmo della mano ok l'ha guardato per un paio di secondi ha detto subito ha fatto un paio di predizioni al volo giusto per colpirmi e poi ha detto tu sei qui per intervistarmi riguardo al mio lavoro con i politici non ti rilascerò nessuna intervista e ti dirò di più tu fallirai in questo tuo progetto di ricerca perché non capirai mai che cos'è la divinazione a meno che non ti metti a praticarla in quanto antropologo la cosa aveva il suo senso e poi ha detto quindi se vuoi tra un'ora ti siedi in quell'aula e io inizio a darti la prima lezione quindi ok allora ho studiato l'astrologia con lui ho studiato l'astrologia per alcuni mesi ho completato un corso al termine del quale anche per fare un po' di pratica facevo delle predizioni leggevo il futuro tra il serio e il faceto agli amici persone a casa finché finisce il corso ricevo un diplomino in astrologia tailandese e questo maestro dice non capirai no non è sufficiente quello che hai fatto io pensavo al diploma adesso posso parlare in modo autoritativo della divinazione gli ho detto devi leggere il futuro a persone che non conosce noi sono capaci tutti ho resistito eccetera eccetera alla fine mi ha portato lui in pratica delle persone legge il futuro di queste persone e mi sono reso conto che si dice no charlatani eccetera ok non è un metodo scientifico ma non è facile leggere il futuro a una persona cioè se vieni qui davanti a me io provo a parlarti a vanvera dieci secondi poi non so più che cosa dire e mi rendevo conto che questi erano clienti professionisti cioè erano stati avevano consultato tantissimi indovini e si aspettavano che ci fosse un po' di carne sul fuoco cioè si aspettavano che parlassi del loro passato innanzitutto tu vieni tu hai avuto questi problemi del loro presente adesso hai questi problemi e quindi che suggerissi qualcosa riguardo al loro futuro anche magari suggerendo degli scenari che loro non avevano visto è difficile e mi rendevo conto anche di un'altra cosa che il metodo che avevo studiato l'astrologia nei libri è molto astratta si tratta di cose generiche che si possono applicare chiaramente a tantissime persone ma la persona che avevo davanti voleva sentire la sua biografia nella quale voleva riconoscere se stesso sua mamma suo papà il suo capo sui lavori i suoi uffici richiedeva un servizio molto personalizzato quindi con la coda tra le gambe sono tornato da lui e ho detto caro maestro io sono negato per questa cosa non è sufficiente quello che ho studiato e anche lui ho organizzato questa cerimonia allora ho organizzato questa cerimonia mi ha messo come vedete questa maschera questo copricapo che termina con una maschera sulla testa e mi ha detto questa divinità è lo spirito di un gulo in pratica il maestro di tutti i maestri è una divinità adesso questa divinità sta con te e tu devi usare l'astrologia che ti ho insegnato assieme ai suggerimenti che riceverai da questa divinità mentre offri chiaramente la divinazione e io ho detto ok e come come mi comunica questa divinità lui mi ha detto ma forse dalle tue parti lo chiami subconscio tramite l'intuizione ah ok e e quindi ho capito che come funziona la divinazione in Thailandia è quindi un dialogo tra qualcosa che impari da un maestro una disciplina dei calcoli eccetera e il tuo sentire il tuo intuito ok il tuo sentire la persona che è davanti e questo chiaramente viene concettualizzato viene teorizzato come una divinità alla quale si dà un nome ok e quindi questa ha risposto a una delle mie domande che cos'è come funziona come navigano le incertezze gli indovini ma l'ultima cosa che ho imparato e con questo concludo e che secondo me è importante è che ok allora c'è una divinità che mi dice le cose facile adesso avrò delle certezze e no mi dice il mio maestro ma perché le divinità sanno tutto e quindi mi sono reso conto del mio etnocentrismo io vengo da una cultura la cultura cristiana nella quale Dio sa tutto quindi se io ho il filo diretto con Dio so tutto vi posso parlare di tutto ma nel buddismo come diceva la professoressa Tarocco c'è l'impermanenza l'incertezza vale per tutti e quindi un indovino non è in grado di togliere l'incertezza dalla vita appunto nemmeno le divinità possono fare ecco finisco così grazie grazie mille ti faccio una domanda bruciapelo poi lascio lo spazio al pubblico ma io ho sempre pensato che gli antropologi non dovessero mescolarsi con l'oggetto della loro osservazione per poter essere obiettivi almeno ovviamente non ne so niente se non da utili come dire lettrice ho sempre pensato che se tu sei parte di un fenomeno non lo puoi studiare come si fa ad essere parte e nello stesso tempo avere una visione oggettiva da scienziato su certi fenomeni che in un certo senso per usare un termine caro al cicap tu stavi cercando di debancare in un certo senso cioè cercare di capire cosa c'era di reale e magari cosa invece di simulato quanta consapevolezza immagino ci fosse delle proprie capacità quanta no immagino insomma sto da ignorante come si fa ad essere dentro e fuori allora no il mio intento non era quello di debuncare il mio intento era quello di capire quali sono i presupposti culturali per cui la divinazione ha senso cioè se io vado da un astrologo perché non ci credo perché dico come fai a connettermi le stelle al fato quindi mi interessava capire perché così tante persone in Thailandia credono a questa cosa adesso ho capito perché come spiegavo prima l'indovino incarna una divinità la divinità ha una conoscenza maggiore rispetto a noi sebbene non certissima di tutte le cose perché è più karma positivo rispetto a noi eccetera quindi mi interessava capire questo perché la divinazione ha senso perché è razionale addirittura perché è logica all'interno di una determinata cosmologia ok quindi se capisco i loro presupposti i presupposti dati dalla religione buddista posso capire perché la gente crede a questa cosa e come fa quindi un antropologo ad arrivare a questo il metodo principale in antropologia si chiama osservazione partecipante che sembra quasi un metodo quasi schizzo prendi infatti lo hai in parte cioè da una parte tu vai allora innanzitutto un antropologo sta con un gruppo di persone molto a lungo almeno un anno deve parlare la loro lingua eccetera e deve condividere il quotidiano perché deve capire il pensare di questi individui le norme sociali che regolano la loro vita e quindi osserva le interazioni ma allo stesso tempo deve avere esperienza perché l'antropologo condivide il suo essere umano con queste persone nel caso della religione ancora più importante le persone che praticano la religione vi parlano sempre della loro esperienza e dicono insomma come puoi capire come vi diceva questo maestro come puoi capire me in quanto essere religioso se non sperimenti non senti anche a livello emotivo la stessa cosa e quindi un antropologo cerca poi la riga ogni antropologo decide lui dove tracciarla ma cerca di essere coinvolto e di condividere la quotidianità e anche condividere da un punto di vista emotivo le pratiche delle persone che studiano secondo me se posso rispondere anche un po' alla tua domanda quello che abbiamo tutti e tre un po' cercato di dire è che si può essere perfettamente biculturali e che questo cioè che le persone possono essere perfettamente razionali e anche coltivare degli aspetti della propria esistenza che sono i razionali e questo vale per gli antichi ma vale anche per i moderni anche se i moderni sempre di più guardano al passato con un certo distacco in realtà sono calati spesso in logiche e in convenzioni ma anche poi esiste anche la sfera delle delle emozioni la sfera dell'emozione della sfera dell'intimità la sfera dei sentimenti quindi l'empatia di cui parlava in un certo senso coltivare l'empatia la cosa di cui parlava di cui parlava Edoardo può avere per esempio un enorme valore nella medicina questa sorta di healing di cui tutti magicamente andiamo in cerca è una cosa che sicuramente le persone in Asia hanno molta meno compunzione a fare fa parte diciamo dell'armamentario di cui una persona che magari appunto è un ingegnere cioè le due monache di cui vi ho parlato prima quelli sono ingegneri elettronici però coltivano anche tutta un'altra serie con molta meno ansia di quella che esiste oggi in Occidente tra il secolo tra il divino e il secolare adesso non è che voglio distruggere l'armamentario del Cica però voglio dire che forse dobbiamo ripensarci anche in Occidente a questa ansia che abbiamo rispetto a sì è una sfera che secondo me è stata soffocata che in realtà c'era diciamo così in quella cultura antica del Mediterraneo ma che nel corso soprattutto dell'età moderna con questa enorme enorme sviluppo anche positivo ovviamente della scienza è stata poi soffocata diciamo così quello che io chiamo religione in realtà è un concetto molto più complesso lo stesso termine religione in realtà per come lo usiamo oggigiorno è un termine moderno certamente non antico diciamo la sfera dell'emotività e questa questione queste domande che poi la scienza non può morisce fino in fondo a rispondere noi le abbiamo lasciate nelle mani forse anche di gente che in realtà non è esperta un tipo di sapere che secondo me andrebbe coltivato in altra maniera e che certe società come Francesca e anche Siani hanno appunto dimostrato praticano meglio se dove c'è appunto anche un po' di razionalità cioè quindi è una cosa perfettamente difficile sì faccio un po' fatica ma lascio lascio che le domande vengano dal pubblico sulle magari emergeranno perplessità che ho anch'io dal pubblico c'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa prego là in fondo abbiamo un microfono perché poi si sente anche anche chi ci segue la sintetizzo io prego sì no ma adesso io non è che volevo fare noi e loro cioè in realtà Roberta Mazza ha parlato della cristianità insomma quindi c'è il mondo greco-romano e la cristianità quindi non è che sono i buddhisti da una parte no assolutamente ho usato la parola biculturale per dire proprio questo cioè immagino che voi sappiate la Cina è uno dei posti più moderni e anche più secolarizzati che ci siano anche la secolarizzazione è una forma di religione la Cina è iper secolare tutte le scelte vengono fatte dallo Stato dal governo cioè non c'è assolutamente non è che uno va fuori a dire chissà mai quali sciocchezze tutte no se vedete anche come si è comportata con la Cina sul Covid non c'è stata nessuna reazione emotiva si fa così tratta tratta ed è funzionato tutto benissimo però allo stesso tempo allo stesso tempo anche appunto in uno Stato che è uno Stato marxista leninista e tutto quanto esiste uno spazio tutt'oggi per un altro tipo di cosmologia appunto la quale in un certo senso si sforza proprio perché questo è il contesto cinese in cui i guiddisti si trovano si sforza anche di avere un approccio assolutamente razionale anzi di razionalizzare come dice lei anche i propri sottesi cosmologici quindi i monaci stessi le monache oggigiorno studiano biologia chimica e tutto quanto e hanno da un lato quindi una preparazione anche culturale educativa che è quella che ricevono gli studenti di terra in Italia e dall'altro hanno anche coltivano una pratica religiosa che è basata su altri presupposti quindi in questo senso secondo me si può dire proprio che come spesso io penso sia successo anche nell'antichità si può essere scettici ma anche lasciare una parte aperta soprattutto la pratica religiosa perché scuso Francesca che era poi quello che si faceva in questi monasteri dall'età o anche nei tempi in realtà prima ma che nei monasteri tardo antichi e poi anche medievali cioè voglio dire una figura come quella di San Tommaso è insomma interessante anche da quel punto di vista perché questi si dedicavano appunto alla teologia alla pratica della preghiera però nello stesso tempo erano tra le persone più colte anche dal punto di vista filosofico scientifico che una persona potesse incontrare cioè io però per cercare di come dire fare un po' l'avvocato del diavolo e anche per la sensibilità che c'è nel CICAP il CICAP appartiene a Skeptic Society le Skeptic Society hanno una visione vogliono promuovere il pensiero razionale e in un certo senso hanno una visione finalistica dell'abbandono di una determinata sfera di pratiche e anche di un determinato binarismo potremmo dire di atteggiamenti come quello cinese perché in realtà quello che noi sperimentiamo nella vita di tutti i giorni ed è anche quello che sperimentiamo in questo periodo di pandemia per esempio è che quando si lascia una porta aperta a determinate pratiche è poi difficile immaginare dove mettere il confine cioè fino a dove sono benefiche e dove vanno a interferire con anche la vita collettiva o la stessa sopravvivenza delle persone il rivolgersi al guaritore piuttosto che alla scienza medica sperimentata eccetera eccetera nonché ad abbandonare le proprie il proprio destino nelle mani di un ciarlatano la differenza tra il ciarlatano e il maestro immagino che sia di fatto la malafede cioè il ciarlatano lo fa in malafede invece il maestro divinatore che è in un certo contesto culturale non lo fa in malafede ciò detto questo è esattamente il perché si cerca di promuovere il pensiero razionale quindi la domanda è cosa ci si guadagna a lasciare questa porta aperta ammesso che abbia un senso ragionare in modo così finalistico ma non so se sono riuscita a spiegarmi cioè come dire come se tutte le nostre decisioni dovessero avere come fine ultimo di essere di avere un guadagno a volte non è detto che lo si faccia per questo però in un'ottica di perché dobbiamo lasciare aperta la porta a questo posso dire solo una cosa ma perché di fatto quello che comunque è la nostra esperienza è che anche nella malattia per esempio c'è una parte che non è cioè forse bisognerebbe anche chiarire che cosa si intende per razionale perché secondo me qui c'è un grosso misunderstanding cioè che cos'è questa sbandierata razionalità cioè io per questo insistevo sul corpo e sull'esperienza che è un'esperienza di cervello che per esempio quando io sono stata malata mi ha detto sai cosa sento due o tre chirurghi specialisti vediamo cosa fare però anche un'esperienza emotiva fortissima che tra l'altro ha cambiato completamente il modo con il quale io studiavo per esempio quel accidente di un Vangelo di Marco e credevo di aver capito gli antichi cioè la malattia non è soltanto una cosa razionale che il medico mi può e infatti poi lo vediamo nella follia che ci sta circondando su questa faccenda del covid dove veramente siccome quella razionalità degli scienziati di cui tu parlavi poi in fondo non riesce a gestire così bene il lato emotivo l'ha lasciato nelle mani di charlatani o di gente in mala fede perché anche in questo caso c'è molta mala fede sia tra i politici che in certi movimenti quindi secondo me cioè questa questione del limite è veramente importante cioè che cosa intendi tu con razionalità per me è molto difficile perché io nasco da una formazione medica quindi ho sempre fatto i conti e in più pur essendo una scienziata di formazione ho una tradizione religiosa nel mio caso quella ebraica che è una tradizione dell'ortoprassi per cui io non ho non vivo assolutamente alcuna dicotomia dentro cioè non ho alcun problema cerco di interpretare quello che invece vedo in altri contesti soprattutto in Italia probabilmente nel contesto nella relazione con la religione cristiana c'è un pochino meno di facilità a gestire questa doppia anima infatti mi riaggancio alla parola che hai usato che è proprio quella di ortoprassi cioè i professionisti religiosi di cui stiamo parlando sarebbero i primi anzi sono i primi a non aprire quella porta cioè loro anzi la vogliono chiudere e l'hanno chiusa per secoli questi professionisti di cui stiamo parlando in un certo senso sono stati anche alleati alle forze statali cioè tutte le religioni mainstream in un certo senso dalla cristianità al cattolicesimo sono lì in un certo senso fanno di lavoro quella roba lì anche per in un certo senso tirare via forza e interesse invece a tutta quell'altra roba che è quella invece un po' più dark un po' più complessa che può andare dal che ne so che però anche essa magari ha una sua legittimità da qualche parte quanto alla razionalizzazione le religioni cioè tutte le grandi religioni globali con cui abbiamo che fare adesso non fanno altro che razionalizzare cioè altrimenti non durerebbero così tanto in un certo senso e ad ogni fase diciamo economica tecnologica politica che si trovano a vivere la abbracciano la incorporano e ne escono fuori no cioè come ha fatto l'ibraismo stesso insomma che è significativo in questo senso è anche estremamente efficiente ma anche estremamente vario al suo interno sì secondo me stiamo parlando di domande diverse cioè stiamo parlando di due agenti che rispondono che hanno due ruoli diversi che rispondono a domande diverse cioè secondo me parliamo del contesto della medicina la medicina è un fenomeno fisico ma anche morale il malato non cerca soltanto delle risposte biologiche mediche ma cerca anche di capire perché è successo a me e cosa posso fare oltre ad andare dal medico e seguire i trattamenti che il medico mi raccomanda è qui che intervengono parlo sempre del caso che conosco meglio della Thailandia è qui che intervengono per esempio gli indovini quindi se tu vai male se tu stai male vai da un indovino l'indovino ti dice prendi e vai dal medico almeno gli indovini con cui lavoro io la maggior non so se è la maggior parte ma insomma gli indovini che io che io stimo dicono prendi e vai dal medico se tu vai dal medico hai ricevuto una diagnosi stai seguendo un trattamento e vuoi fare dell'altro hai delle domande appunto morali perché è successo a me caro indovino ok è successo perché il karma negativo della tua vita precedente ti raccomando di andare al tempio e fare queste pratiche e queste pratiche che per noi possono significare poco danno potere all'individuo perché trasformano il paziente non in una persona che deve essere paziente ma una persona attiva che può fare qualcosa oltre chiaramente ripeto all'ascoltare e a seguire i consigli dati a lui dal medico qui stiamo parlando in realtà di queste sono religioni trans diciamo stiamo parlando di fenomeni culturali di fenomeni religiosi transculturali translinguistici quindi estremamente complessi ci sono anche tantissime altre forme di religiosità che magari sono molto più locali queste grandi religioni umbrello di cui stiamo parlando qui in un certo senso hanno successo hanno avuto successo anche perché sono particolarmente adattabili e hanno anche al loro interno sia delle complesse infrastrutture appunto gnoseologiche epistemologiche ma anche dei modi anche estremamente concreti di avere a che fare con il quotidiano successo non lo so dipende un po' da che cosa parliamo parliamo in termini di accoliti ci sono tanti esempi di questo cioè adesso senza entrare particolarmente in dettaglio però per esempio ci sono fenomeni di conversione religiosa anche in massa che spesso sono per esempio c'è l'India in India più o meno verso il XII-XIII secolo il buddismo ha praticamente smette di essere praticato viene rivivificato nel XX secolo da un da un signore che di fatto era un politico più che altro e che voleva battersi per i diritti civili dei cosiddetti senza casta e qual era l'unica maniera per tirarsi fuori dal grande imbuto dell'induismo e del barmanesimo era convertirsi al buddismo quindi ci sono stati fenomeni di conversione in massa dei Dalit che in un certo senso cercavano di cambiare un po' la propria cosmologia ma per fare che cosa? Per agire sul proprio stato sociale e sulla propria difficoltà di accesso alla scolarizzazione e ad altre cose che erano comuni quindi in quel caso lì si è visto proprio come una religione barra società barra cultura spesso questo è il caso non so se volete aggiungere altro l'altra domanda era volete rispondere voi se sono più brave nella propaganda o se sono più in termini potremmo dire evoluzionistici hanno una fitness maggiore per il presente allora io non sono una storica delle religioni contemporanee quindi non mi sento di così lanciarmi in una analisi che è molto complessa ma insomma il passato un po' come ha cercato di spiegare Tarocco un po' ci insegna se penso alla religione che io studio per l'antichità che è il cristianesimo gli studi più recenti affermano che diciamo sebbene sia stata una religione che lentamente appunto grazie poi al fatto di essere stata una costola all'inizio dell'ebraismo cresceva a un certo ritmo soprattutto in certe aree ecco la conversione reale o diciamo così politica di Costantino che c'è il boom se poi questo fosse stato un boom di adesione e di fede o un boom politico è un altro paio di maniche cioè i numeri vanno poi sempre un po' interpretati è ovvio che se il tuo imperatore diventa cristiano l'aristrocrazia per esempio romana di fatto si converte salvo poi appunto continuare a leggere i libri che leggeva prima continuare ad avere sulle pareti un certo tipo di immagini e così via cioè questo semplicemente per dire che è veramente difficile poter rispondere a una domanda di questo genere senza fare delle distinzioni per esempio di aree di zone se posso dare così una direzione se magari si interessa di queste cose una delle regioni che sta esplodendo adesso in tante parti del mondo soprattutto in latinoamerica però anche in Italia è il cristianesimo evangelico gli evangelici sono ovunque sono bravissimi con la tecnologia sono carismatici e quindi cosa vuol dire vuol dire che uniscono due caratteristiche fondamentali della vita contemporanea che è questa cioè il fatto di essere sempre connessi a qualche cosa di guardare uno schermo di essere legati a una come dire connettività sentirsi legati a una comunità per quanto essa sia reale oppure presunta e che comunque è mediata da quella roba lì quindi la mediazione e poi però anche il carisma quindi particolari personaggi che persone che si offrono che offrono se stesse ancora una volta come mediatori stai male hai bisogno così ecco qui e questo è stata un'esplosione cioè dagli anni 50 in avanti guardate guardate gli Stati Uniti d'America guardate l'Africa guardate la stessa Europa cioè gli evangelici vanno alla grande sono io credo tra i più esplosivi che ci siano al momento attuale e hanno assolutamente fortuna anche in posti che erano magari tradizionalmente legati ad altre sfere religiose come il cattolicesimo l'islam il protestantesimo l'anglicanesimo classico cioè mentre qui sono versioni del cristianesimo che sono molto più estreme e ripeto legate sia ai social media che a determinate personalità carismatiche io mi scuso se mi devo interrompere questa bellissima conversazione andrei avanti in una vita perché sono piena di dubbi e di domande ma sarà per un'altra edizione perché dobbiamo purtroppo liberare la sala per il prossimo incontro grazie ancora ai nostri relatori per favore chi dovesse uscire esca di là perché c'è un ordine nel flusso ancora grazie mille per la vostra disponibilità e speriamo di riavervi al CICAP Fest grazie a tutti